Sembra un po' Silvio Pellico, c'è un po' di buio, però sono con la telecamera del computer che senz'altro non è proprio all'ultimo grido. Adesso aspettiamo un attimo che entriate, quindi ci salutiamo. Come dicevo, intanto salutiamo anche chi poi ci seguirà indifferita e vi ringrazio, insomma, se vorrete insistere un po' sul tema che ci sta a cuore, insomma, sui nostri cani e sui nostri border. Spero risulterà in qualche modo così utile un po' a tutti. Ora attendo l'entrata di tutti quanti. Come dicevo nella presentazione, stasera cominciamo a parlare dello standard del Border Terrier, che come penso più o meno tutti voi saprete, ogni razza ha uno standard di riferimento. Lo standard ci parla, sì, Dado, ciao, buonasera, ti vedo, ti vedo, io ti vedo perfettamente. Purtroppo non posso rispondere io alle domande, ma vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo. No, stavo dicendo appunto che siamo un po' silbiopellico nella sua prigione, c'è un po' di buio, ma io non ho delle luci esagerate in sala e quindi la telecamera di questo computer non è un gran che. E quindi, ma tanto insomma, oggi diamo spazio, più che alla mia faccia, diamo spazio al progetto, a questo PowerPoint che appunto ho preparato, come Daniela sa, qualche tempo fa per un progetto con l'aiuto anche coadiuvato dalla società italiana Terrier. Mi ero occupato della traduzione, dell'elaborazione di questi due commenti allo standard del Border Terrier che, insomma, aiutano allevatori, giudici, anche il semplice appassionato a capire in profondità che tipo di cane abbiamo fino in fondo per le mani. Ovviamente il commento allo standard serve, insomma, in particolar modo agli allevatori per capire che direzione prendere. Però, insomma, è anche vero che anche il proprietario di un cane curioso, semplicemente più attento, può scoprire, secondo me, delle cose interessanti sul proprio cane, che magari nel momento in cui il cucciolo è stato ceduto, è entrato in casa, non faceva parte delle preoccupazioni fondamentali. E quindi, insomma, spero che questa cosa possa davvero tornare utile. Mi auguro anche una cosa, che i miei limiti evidenti, tecnologici, insomma, non inficino le dirette, perché io qui alla vostra, odio, adesso non so se è destra, sì, alla destra del teleschermo vedete la schermata di PowerPoint. Io, insomma, rimango da questa parte piccolo piccolo, spero che si veda anche sui telefoni. Ho fatto delle prove, si vede abbastanza bene, insomma, casomai se ci fossero dei problemi, o magari volete rivedere delle schermate, me lo scrivete, e magari potrei andare ritroso su PowerPoint, e proprio non sono molto esperto, perlomeno non di queste cose, però cercherò di non fare grossi. Ecco, sono contento che, perché in effetti dai computer forse si vede un po' meglio, perché ovviamente lo schermo è più grande, dai cellulari magari si fa un po' fatica. Però, insomma, dai, spero che si vedrà bene, perché insomma ci sono anche diverse foto, e quindi mi piacerebbe che in qualche modo si riuscisse a vedere bene tutto quello di cui vogliamo parlare. Vedo che c'è, insomma, qualche partecipante c'è già, magari aspettiamo qualche minuto, tra l'altro appunto, come dicevo, anche nelle altre dirette. Le dirette sono già disponibili, come avrete notato nella nostra pagina, e devo dire, sia per quanto riguarda Silvia, e anche, soprattutto per quanto riguarda Daniela, ci sono state parecchie visualizzazioni post, diciamo, indifferita, e ovvio che le dirette, insomma, sono sempre, non dico problematiche, ma magari uno ha qualcos'altro da fare, e poi appunto con l'idea della possibilità di poterlo vedere in un secondo momento, spesso la diretta, insomma, lascia un po' meno visualizzazioni. Però va bene, così, insomma, il mio intento in questo senso è proprio di cercare di raccontare, non tanto della mia esperienza, ma, insomma, quello che, grazie a grandi maestri inglesi, insomma, quello che abbiamo pensato, insomma, di capire di questa razza. Ci affidiamo, ovviamente, completamente a loro, perché, come vi dicevo, io mi sono veramente riservato solo la possibilità di, anche per un arricchimento personale, qualche anno fa, di tradurre e elaborare questi due commenti allo standard. Insomma, la farina del mio sacco è davvero, insomma, il mio apporto è davvero minimo, e quindi, anche pensando alla veridicità dei concetti che sono espressi, direi che, insomma, abbiamo a che fare con due allevatori davvero storici, che hanno in qualche modo segnato il passato, senz'altro, della razza, ma io direi anche, insomma, il presente, e, perché no, anche il futuro, perché comunque sono due allevatori che a tutt'oggi allevano, e quindi, insomma, sono stati capabbiati loro anche di mettere per iscritto quelle che erano le loro impressioni sulla razza. E quindi, insomma, ci affidiamo a loro e speriamo davvero che possa, mi sto ripetendo già, che spero che possa essere interessante. Vedo che ci sono delle entrate, magari aspettiamo ancora qualche minuto e poi cominciamo. Come dicevo anche nelle altre presentazioni, insomma, l'approccio è senz'altro un filo tecnico. Io ho diviso, ho pensato di dividere questo commento in tre momenti, in tre live, più che altro per dare giusto spazio, soprattutto pensando poi all'analisi proprio del cane, quindi, insomma, le parti anatomiche, poi, insomma, c'è un breve cenno anche al temperamento, che sarà fatto stasera, ma penso e spero che, insomma, che tre serate non siano né troppe né troppo poche. E quindi, insomma, direi che, insomma, affrontiamo la cosa con questo schema, insomma, sperando di coprire un po' tutte le, come si dice, gli aspetti che ci interessano sottolineare. E per il resto direi, insomma, che appunto io mi servirò di PowerPoint, come vi dicevo, mi auguro di non fare grosse stupidate, insomma, non sono proprio un grande esperto, ma vedremo di farcela. Un'altra prestigiazione, le foto che vedrete in questa presentazione, sono tutte foto che, a parte le foto storiche, sono tutte foto che riprendono, ritraggono, scusate, cani inglesi, campioni. Quindi parliamo dal punto di vista, parleremo e vedrete dal punto di vista morfologico, non tanto stasera, ma nelle serate a venire, vedrete proprio dei rappresentanti della razza che in qualche modo, come dire, avvalorano quello che lo standard, e il commento allo standard dice. E quindi direi che, insomma, anche solo guardare dei soggetti che davvero, come dire, interpretano, non dico la perfezione perché la perfezione non esiste, ma che interpretano in maniera molto degna lo standard, credo sia importante, per farsi un'idea precisa. Ovviamente, insomma, come vi dicevo, le valutazioni sono puramente tecniche, quindi osservare il proprio cane con un'idea più corposa e con un'idea più tecnica, rispetto a quello che dovresti vedere, non vuol dire che il proprio cane diventa automaticamente poco bello, poco tipico, eccetera. Qui, insomma, ci terrei a specificare che parliamo di idealità o di quello che l'allevatore o il giudice di esposizione dovrebbe, al quale dovremmo pensare quando ci poniamo il problema o dell'allevamento, nel caso dei giudici, del giudizio dal punto di vista morfologico di questo cane. Come anche diceva Daniela, insomma, c'è, penso che riguardi un po' tutti, sia per noi che alleviamo e che siamo stati comunque in principio dei semplici proprietari, l'approccio è sempre quello soprattutto affettivo, quindi, come dire, l'aspetto tecnico va un po' ad avvalorare questo rapporto che in qualche modo dovreste, penso, insomma, avrete sicuramente già un saurato con i vostri cani. Quindi, un commento allo stand o il sapere come il Border Terrier dovrebbe essere, parliamo ovviamente quasi squisitamente dell'aspetto morfologico, non toglie niente, direi, ai cani che avete per le mani, perché il cane perfetto, come diceva anche Daniela settimana scorsa, non c'è, non esiste, non è mai stato allevato da nessuno. Noi cerchiamo di avvicinarci quanto più possibile, ma direi che ogni cane poi ha una sua valenza assoluta, senz'altro affettiva, ma anche dal punto di vista, devo dire, anche solo della rappresentanza della razza in un paese come il nostro, in cui la razza è davvero poco rappresentata, insomma, quindi mi sentirei di trovare in ogni caso un valore a tutti i cani che più o meno dignitosamente rappresentano la razza, insomma, poi le coccarde, le vittorie, insomma, sono cose che un po' hanno a che fare con la sfera, non dico dell'ego, però insomma, ci avviciniamo abbastanza. Io spero che stasera, ciao Emma, buonasera, vedo che hai salutato, spero che l'approccio sia questo, insomma, impariamo a guardare il Border Terrier, anche per imparare a guardare i nostri cani, e quindi direi che l'unico approccio possibile sia questo. Allora, sono già alle 9 e 10, quindi, insomma, partirei con questa presentazione. Ripeto, perdonatemi, io adesso devo, come dire, uscire, esatto, è vero, gli inglesi dicono che il cane è perfetto, ha sette difetti, esatto, esatto. Io adesso vi dicevo, per far funzionare PowerPoint, devo, buonasera, Facebook user, non vediamo il tuo nome, ma buonasera. Devo andare praticamente sulla pagina di PowerPoint qua sul computer, quindi mi vedrete comunque parlare, io sarò però comunque, diciamo, concentrato, e non vedrò soprattutto le domande se le fate, perché proprio devo usare un'altra schermata. Se riuscite a tenervi le domande, se ce ne sono ovviamente, per la fine del commento, bene, altrimenti le fate, io poi cercherò in ogni caso di andare, di cercare, insomma, a ritroso le domande. Quindi, insomma, io direi che possiamo cominciare. Vediamo di andare sulla presentazione. Allora, veniamo a noi. Allora, questo è uno schema, come vi dicevo, di quello che succederà in questi tre incontri. Questa sera, insomma, cominceremo a introdurre la razza, a fare in modo di capirla in qualche modo, e a capire una razza, come vedremo adesso, passa attraverso, insomma, delle, come dire, delle nozioni imprescindibili che hanno a fare con la sua funzione, la storia e le caratteristiche generali. Nel secondo incontro, quindi giovedì prossimo, cominceremo invece ad andare un pochino più in profondità rispetto proprio alle indicazioni dello standard rispetto alla morfologia del cane. E a che cosa si deve ricercare e quindi cominceremo dalla testa e di tutta la parte anteriore del cane. Nell'ultimo, e poi, insomma, delle cose che sono scritte tra un'indicazione e l'altra, insomma, sembrano solo due piccole cose, in realtà a testa anteriore sono, e per anteriore, diciamo, per chi non è proprio avvezzo ai termini tecnici, è tutta la parte che, praticamente, dalla testa arriva più o meno dietro le scapole, cioè quindi al Garese. Questo è considerato così il treno anteriore di ogni cane, peraltro. E quindi giovedì prossimo ci occuperemo di questo. Nell'ultimo incontro, invece, prenderemo in considerazione tutti gli altri elementi fino alla fine dello standard, in cui si parla, appunto, invece della porzione posteriore del cane, la coda, che è un dato molto tipico di questa razza, e senz'altro anche il mantello. Poi ci sono, ovviamente, io qui ho semplificato, ma ci sono poi delle... Andremo proprio nel particolare, appunto, come vi dicevo, con diverse foto. E quindi stasera, appunto, partirei da dei dati fondamentali. Insomma, spero non risulti troppo nozionistico, insomma, io cercherò di... Anche perché, insomma, non sono... Non mi ricordo esattamente tutto, ho studiato queste cose diverse volte, ma ormai l'età è quella che è. Non sono un professore, non sono bravissimo nelle spiegazioni, e quindi, insomma, spero se non altro di far passare un po' il messaggio, insomma, così, quello importante in qualche modo. Ok. Veniamo a noi. Cosa ci serve per capire una razza? Per dire, intendo, anche interpretarla, cioè andare oltre quello che è l'aspetto puramente, non vorrei dire estetico, ma perlomeno morfologico, dato solo dall'osservazione così, da un'osservazione un po' venerica. Per capire, invece, una razza, direi a fondo, è importante considerare due cose. Senz'altro, il territorio in cui è stata selezionata, quindi al di là della nazione, ma proprio il territorio a livello geografico, a livello di caratteristiche del territorio vero e proprio, e soprattutto la funzione per la quale, scusate, questa razza è stata creata. Questa regola vale un po' per tutte le razze. Per i terrier, più che mai, anche perché per il tipo di lavoro che dovevano fare, o che erano, insomma, per il quale sono stati selezionati, il territorio gioca un ruolo fondamentale. E quindi direi che è una delle due cose importanti, come vedete scritto qui. la funzione senz'altro, perché la funzione è quella, appunto, è il motivo vero e proprio per quale questa razza che è arrivata fino ai giorni nostri praticamente invariata è stata creata. E quindi direi che per dare un'interpretazione dignitosa del perché un border terrier è fatto come è fatto, dovremmo appunto tenere molto bene in considerazione appunto la funzione per il quale è stato creato. Allora, partiamo dal territorio. come molti di voi sapranno, immagino, anche perché non è stato ridetto più volte, i border terrier sono originari o perlomeno il ceppo originario delle razze terrier da cui poi deriva il border ha come diciamo origine geografica la zona dei borders anglo-scozzesi che sono quelle zone, le contee che dividono geograficamente l'Inghilterra dalla Scozia. Questa zona anticamente era addirittura segnata dal ballo di Adriano che era questo famoso muro costruito da Adriano appunto dall'imperatore romano che delimitava l'impero romano in territorio britannico nelle porzioni più a nord e quindi proprio coincideva appunto con quello che poi sarebbe stata anche a tutt'oggi insomma il confine geografico tra Inghilterra e Scozia come potete vedere da questa foto direi insomma si vede abbastanza bene qui addirittura si vede proprio si vedono le rovine del ballo di Adriano come potrete insomma vedere non è senz'altro una di quelle zone dell'Inghilterra considerate tale più piacevoli gradevoli nel senso che è una zona piuttosto aspra dell'Inghilterra che ha delle caratteristiche forse anche ascrivibili ad alcune zone della Scozia del nord quindi è una zona come vedete piuttosto aspra con poca vegetazione con diversi rilievi anche rocciosi a volte e quindi insomma questo ha determinato in primis una cosa direi che vivere per la selvaggina che è quella che diciamo è come dire l'idea o come dire la le prede a cui poi i terri dovevano in qualche modo ambire anche se non è esattamente insomma un modo di dirla troppo corretto però insomma per farvi capire in questa particolare zona dell'Inghilterra la vita anche per la fauna selvatica è piuttosto dura perché è un territorio piuttosto inospitale benché minimamente verde ma come vedete ci sono pochissimi alberi pochi boschi rilievi e zone molto brulle e quindi si pensa o meglio appunto facendo riferimento ai commenti agli standard delle persone delle quali vi parlavo si considerano si considera la selvaggina di questa zona che appunto è aspra e dove è difficile vivere anche per la selvaggina stessa piuttosto piccola rispetto alla stessa selvaggina in altre zone diciamo più floride del Regno Unito quindi la taglia diciamo non troppo sostenuta delle prede di elezione dei terra di questa zona hanno determinato senz'altro per quanto riguarda il border la taglia del cane quindi in questo senso mi sentirei di dire che il territorio ha giocato un ruolo fondamentale sulla creazione di questa razza perché se voi considerate che un border è un cane che da standard dovrebbe pesare intorno ai 6-7 chili il motivo di questa di questa taglia è proprio legato al fatto che la selvaggina del quale il border si occupava è più piccola e di conseguenza l'eventuale entrata nelle tane di questi animali erano più piccoli e quindi di conseguenza scusate mi sono ripetuto la taglia del terrier doveva essere adeguata alla propria preda sembra una cosa in effetti un po' come dire una teoria molto teoria in realtà se si pensano ad altri terrier non ne parliamo perché insomma non siamo esperti ma pensando ad altri il border pur mantenendo le proporzioni di un cane di media taglia da caccia quindi non è un cane a zampa corta è un cane piuttosto leggero anche all'interno della famiglia dei terrier e quindi insomma la ragione selettiva in questo senso sarebbe appunto molto 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 legata al fatto che le prede fossero piccole in virtù del fatto che vivono in un posto davvero in ospitale e quindi insomma direi che il territorio neanche troppo alla lunga insomma fa la differenza e crea i presupposti per la nascita di un terrier di questo tipo ecco di un terrier di piccole dimensioni in qualche modo e veniamo adesso invece alla funzione che è senz'altro forse il capitolo più importante parlando in generale di cani cioè ogni cane è stato ogni razza di cane come le conosciamo oggi sono state volute create e selezionate per uno scopo e questo scopo in genere è chiamata funzione cioè il tipo di lavoro pensando appunto ai cani che dovessero lavorare che questi cani dovevano insomma erano chiamati a fare per chi è a digiuno ma non credo insomma che tra di noi troppi non sappiano quale fosse il lavoro dei terrier il lavoro dei terrier è essenzialmente quello di occuparsi appunto di questa selvaggina della quale parlavo prima cioè per occuparsi si intende o tenere sotto controllo il numero e quindi minimizzando i danni alle allevamenti di piccoli animali e invece nella caccia sportiva insomma in qualche modo un lavoro considerato soprattutto da chi questo tipo di caccia veniva praticata un lavoro più nobile che era un lavoro diciamo tra virgolette sportivo che vedeva il terrier dover stanare la volpe per permettere appunto lo svolgimento della della caccia alla volpe nonostante questo direi che storicamente possiamo dividere due insomma momenti fondamentali in generale per tutti i terrier ma quindi anche per il border ovvero la nascita come terrier cioè come cane umile nel senso che i terrier erano selezionati principalmente senza altro nella zona del border è così cioè nella zona geografica dei borders anglo-britanici era così cioè un cagnolino di piccola taglia con un'aggressività extra specifica notevole quindi che doveva essere in grado di predare altri animali in maniera anche selettiva e quindi insomma questo era un po' il lavoro in generale quello di andare in tana per minimizzare appunto poi quella che sarebbero stati gli attacchi da parte delle volpi o tassi agli animali che in qualche modo costituivano un reddito per i contadini quindi galline polli conigli e questo insomma era proprio la funzione originaria dei terrier non c'era ancora parliamo di qualche secolo fa ovviamente non c'era ancora un'idea legata al board sportivo cioè il terrier era un cane davvero funzionale rispetto proprio come dire la sua funzionalità era legata anche a volte la sopravvivenza dei suoi proprietari o comunque di chi si occupava di questo cane di chi lo allevava e insomma e questo ovviamente ne ha delineato perlomeno nei secoli che hanno preceduto poi insomma il 1800 ne hanno determinato fortemente un'aggressività come dicevo nei confronti di in generale piccoli animali da pelo quindi scusate volpi tassi piccoli musteli di anche ratti e topi i terrier erano generalmente molto molto aggressivi ovviamente con questi animali la capacità senza altro del border io mi riferisco al border perché di questa razza di questa razza scusate ho letto questo c'era una capacità però intrinseca di questi animali che spesso svolgevano il proprio lavoro internamente alle proprietà quindi alle farm la capacità di discriminare però tra specie che dovevano essere cacciate e quindi quadrupe di tipo volpe o tasso come dicevo prima quindi quelli che erano considerati nocivi e invece come dire lasciar perdere anche volentieri coniglie galline e altri piccoli animali che erano gli animali da reddito nelle farm questo ve la dice abbastanza lunga anche sul meccanismo mentale che può come dire manifestare un cane di questo tipo cioè riuscire a discriminare tra animali diversi parla già di un tentativo selettivo anche in tempi piuttosto antichi di un cane che doveva fare un lavoro molto preciso anche piuttosto specializzato con l'avvento poi della caccia alla volpe in Gran Bretagna penso che più o meno tutti noi sappiamo anche in grandi linee di cosa si tratti il terrier come dire esce dall'ambito puramente utilitaristico nel senso che davvero era un cane utile era un cane necessario quasi e come dire incontra una una disciplina uno sport che ne ha tra l'altro delineato in maniera molto precisa anche la selezione quindi il terrier che è completamente aggressivo e quindi deve uccidere questi animali per fare in modo che questi animali non predino poi gli animali da cortile con l'avvento con l'utilizzo di terra alla caccia alla volpe il terrier diventa uno stanatore uno stanatore è un terrier che deve indurre minimizzando assolutamente i danni soprattutto alla volpe più che a sé indurre la volpe a uscire dalla propria tana per appunto innestare quel meccanismo di inseguimento che è proprio della caccia alla volpe tra l'altro in partnership con i segugi e senz'altro con i cavalieri come potete vedere in questo dipinto qui c'è un orto in più nel senso che come vi dicevo il terrier diventa diventa uno stanatore quindi deve fare un passo fa un passo selettivo successivo o comunque più preciso un cane che deve mantenere una fortissima come dire voglia di affrontare il selvatico senza tentennamenti ma non lo deve predare quindi in questo senso capirete che come dire la struttura del cane del terrier del border terrier ancora una volta e ancora di più si delinea si crea proprio un'idea precisa di lavoro rispetto a quello che è la caccia alla volpe la volpe tra l'altro io non ho grossissime nozioni su questa specie di animale ma è una so insomma abbastanza sono abbastanza sicuro di poter dire che la proverbiale furbizia della volpe che è un po' come dire di letteratura ma insomma è un canide quindi ha delle come dire delle cartucce da sparare a sua volta anche come dire l'atteggiamento il temperamento della preda del cane diventa in qualche modo fondamentale rispetto appunto alla creazione alla selezione del temperamento del cane stesso cioè sono due intelligenze e due modi di cavarsela in qualche modo che si confrontano e in qualche modo appunto per la volpe rimane il discorso della selvaticità e quindi la volpe si muove solo come dire con l'idea di salvarsi la vita però la volpe ha come dire ha la capacità di percepire bene chi ha di fronte parlando di eventuali competitori sia nella propria specie che altri cani di come capitava con i terrier e quindi il terrier doveva essere in grado oltre che fisicamente riuscire fisicamente intendo anche banalmente solo con un abbaio che poteva essere modulato tra più aggressivo più cadenzato per alcuni sostengono quasi per una sorta di tentativo ipnotico insomma queste sono teorie un po' un po' particolari che non appartengono in realtà solo al border ma questi questo abbaio insistente che il cane deve mettere in atto quando vuole esternare la volpe secondo alcune è proprio una strategia che il cane utilizza per portare a termine il proprio lavoro oltretutto come dicevo prima minimizzando i danni soprattutto alla volpe perché capirete che se un terrier va in tana e spacca in due la volpe quando esce dalla tana io credo intanto il terrier man che si occupava di maneggiare il terrier nelle fasi di caccia probabilmente l'avrebbe spezzato in due a sua volta e quindi insomma diciamo che come dire l'attenzione selettiva anche in questo senso deve essere massima perché comunque ci vuole per fare un lavoro preciso ci vuole un cane un terrier che pensa davvero in maniera molto precisa e quindi insomma in effetti questo questo discorso può essere direi che potrebbe essere come dire applicato a tutti i terrier stanatori perché poi ce ne sono altri che invece dovevano fare o tornare a fare o sono rimasti invece nell'ambito del come dire dell'ambito esterno al discorso della caccia sportiva e quindi a quelli non serviva cioè l'aspetto selettivo in questo senso non è non è stato portato avanti e e quindi insomma non mi sento di dire che sono due mondi staccati ma insomma gli stanatori e diciamo i terminatori se vogliamo così chiamarli sono pur appartenendo alla stessa famiglia dei terrier hanno un temperamento molto 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 diverso insomma e quindi in questo senso andrebbero considerati comunque rimanendo sul border il border direi da diciamo che i signori si accorgono del perlomeno parlando del border si accorgono del border e dei grandi numeri che ha intorno alla metà del settecento e per un buon centinaio d'anni anche oltre insomma viene utilizzato appunto praticamente fino agli anche più di quasi duecento anni perché in realtà fino ai primissimi anni novanti in Inghilterra la caccia alla volpe sportiva era ancora permessa e molti cani venivano ancora utilizzati e insomma quindi per parecchio tempo il border è stato selezionato in questo senso e questa versione di border è quella che è arrivata a noi cioè noi del terrier veramente assetato di sangue abbiamo oddio può capitare di rivedere questo dato anche nei cani moderni cioè ci sono cani ci sono terrier che si dimostrano anche tra i border molto aggressivi con gli altri animali come dire bypassando il discorso del fatto di stanare o che e quindi è pur vero che anche il lavoro in tana soprattutto pensando alla tana sportiva quindi la caccia alla volpe sportiva va un po' insegnata cioè i cani vengono in qualche modo addestrati spesso un cane giovane viene associato a un cane più anziano o più esperto detto questo a noi è arrivata questa versione di border terror cioè un cane che avesse che riuscisse a fare in maniera determinatissima il proprio lavoro ma che non fosse come dire una macchina da guerra poi in un certo senso lo è perché comunque ha una capabilità e una capacità di insistere sulle cose pensando soprattutto allo stimolo del lavoro notevole però come dire direi che è abbastanza facile capire che questo scarto scusate dello stanatore e del terminator vogliamo chiamarlo così è un termine improprio ma non mi viene in mente un altro insomma è una cosa notevole e questo tra l'altro credo sia una delle ragioni questo gli ha permesso anche di valicare con abbastanza facilità il discorso lavorativo per diventare un buon cane anche da semplice mettiamolo tra virgolette cani da compagnia perché poi lo vedremo comunque ha una dualità notevole insomma ci sono delle caratteristiche determinate comunque alla lunga da questa da questo da questa intenzione selettiva sul fatto di stanare scusate mi ripeto ma è un è un concetto importante perché è proprio uno spartiacque quando il border incomincia a essere allevato in maniera anche dal punto di vista morfologico più precisa quindi in seno al discorso questi terri venivano prima allevati addirittura anche si dice dai calderai dai pifferai cioè nella zona del border questi cani erano in mano a persone anche poco rispettabili che appunto portavano questi terri per fare opera di ratizzazione o devolpizzazione se si può usare questo termine con l'avvento in poi invece della selezione sulla caccia sportiva come dire il tocco nobile si è fatto un po' sentire anche dal punto di vista morfologico perché si è ricercato ovviamente al di là di qualsiasi però compiacimento estetico perché il border è tutto tranne che un terror estetico passatemi il termine però insomma si è incominciato anche un po' cioè si è capito abbastanza rapidamente che probabilmente cercare di preservare anche determinate caratteristiche morfologiche metteva al riparo anche il discorso selettivo sul temperamento e quindi insomma con l'avvento della selezione del cane appunto del famoso cane da parte di persone diciamo non vorrei fare un discorso selettario ma insomma c'è uno slittamento proprio anche su chi ha per le mani questi cani a un certo punto che non sono mai nobili direttamente ma già un terrierman che lavorava per i signori che poi si divertivano nella pantomima della caccia alla volpe avevano un'idea selettiva molto precisa rispetto a quello che era che ne so appunto uno che faceva opera di idratizzazione un secolo prima e che se il cane fosse un po' bianco un po' marrone e che avesse il muso più lungo più corto più di tanto non gli interessava insomma diciamo che prima dell'avvento della scaccia scusate della caccia sportiva l'idea selettiva dei terre era lavora al 100% e quindi vale e quindi magari da quello userò dei cuccioli che così mi assicureranno che ci sia una perpetrazione del carattere questa cosa succede ovviamente anche con una selezione più precisa anche morfologica però insomma diciamo che lo zampino in qualche modo della nobiltà ha anche in questo senso delineato senza altro insomma l'aspetto anche della selezione morfologica allora la storia come dicevo le origini ovviamente di tutte le razze ovviamente sono sono incerte anche le più antiche insomma si fanno discorsi interessantissimi su addirittura sui faraoni sui cani delle piramidi ovviamente non è il nostro ambito parlando dei terrier insomma i primi cenni sul terre o proprio sul cane parlando di Europa sul cane che fa questo tipo di lavoro è i primi cenni veri e propri cioè che sono ascrivibili davvero al lavoro di un cane che va sottoterra per stanare o per prendere le prede ha delle origini insomma direi basso medioevo quindi insomma verso il rinascimento senza altro parlando di isole britanniche in realtà la parola terre ha una radice franco latina possiamo dire così però insomma diciamo che la grande tradizione dei terre nasce senz'altro e si sviluppa nelle isole britanniche la caratteristica dell'allevamento dei terre in Inghilterra a me è capitato di dirlo anche in un'altra occasione ha senz'altro una caratterizzata dalla località cioè non so se per eccesso di campanilismo perché o per come dire per competizione rispetto alle aree vicine ogni zona dell'Inghilterra facciamo un discorso molto generale ovviamente ma diverse zone dell'Inghilterra vantavano un proprio terrier di riferimento e questo è proprio una tradizione per gli inglesi credo sia l'unico paese parlando di secoli addietro che abbia una tradizione così forte credo forse sia l'unico le razze terrier poi sono anche si sono sviluppate delle altre razze in altri paesi ma la tradizione britannica è in assoluto quella che ha come dire aperto le porte dell'utilizzo del terrier sia come tipo di caccia che proprio come tipo di cane anche legato alla tipologia del cane allo sviluppo delle varie tipologie questa frammentazione ha portato insomma direi ormai nei due secoli precedenti al nostro ha diversissime razze terrier che poi però nel periodo appena precedente il riconoscimento da parte del neonato che è nel club inglese quindi insomma parliamo io credo verso la fine dell'ottocento poco prima insomma dalla metà dell'ottocento in poi molte di queste razze sono state giocoforza non dimenticate ma non sono state come dire non c'è stato un lavoro preciso di selezione non c'è stata una spinta anche dal punto di vista dei diversi allevatori a riconoscimento della razza stessa e quindi molte razze terrier si sono in qualche modo addirittura estinte cioè perché ci sono insomma delle testimonianze di terrier di tipologie di terrier che purtroppo rimangono sui dipinti sui disegni ma che oggi come oggi non hanno più risconti nella realtà quindi questa grossa questa attitudine a creare terrier per ogni località ci porta al nostro border si pensa o meglio insomma gli studiosi delle tre razze in realtà parlo di tre razze perché come leggete parliamo anche di Bedlington e di Dandy Dinmont si tende a pensare che il ceppo originario del nostro border sia come dire condiviso con il Bedlington e con il Dandy Dinmont che sono il Dandy Dinmont è una razza considerata completamente scozzese il Bedlington e il border sono tutto sommato un pochino più di confine perché proprio venivano allevate al di qua e al di là del famoso Vallo di Adriano cioè si pensa anche ovviamente a scambi tra i vari terrier men però insomma senz'altro il ceppo originario è lo stesso insomma con discreta sicurezza gli esperti ci parlano di questa cosa ovviamente non dobbiamo pensare per chi li conosce magari andate a vedere qualche foto al Bedlington non tanto al Dandy Dinmont che era già molto tipico già diversi direi centinaia almeno centocinquanta forse anche mi spingerai fino ai duecento anni il Bedlington un po' meno cioè non dovete pensare esattamente ai cani che vedete oggi che ne sono esposizioni in stade è difficile incontrarli perché sono molto rari esattamente un po' con i nostri border ma diciamo che è difficile oggi pensare che un Bedlington che vediamo in esposizione e fino a anche un Dandy Dinmont abbiano qualcosa a che spartire con i nostri border sono razze davvero molto molto differenti cioè se già il Bedlington e il Dandy forse anche per via della tolettatura delle orecchie si potrebbero tentare dei paralleli anche molto vaghi con il border proprio no in realtà se magari avete tempo giusto per curiosità ripeto non tanto con il Dandy che ovviamente per chi non lo sapesse è un cane che ha delle proporzioni molto diverse è un cane con una zampa piuttosto corta rispetto alla lunghezza e all'altezza del cane algarrese e con il Bedlington invece a parte la grossa variante del pelo della diversa tessitura di pelo scusate ci sono dei parallelismi cioè ci sono dei io purtroppo non li ho ritrovati questo era un powerpoint che avevo già preparato non ho trovato non avevo a disposizione scusate altri disegni ma ci sono delle raffigurazioni di Bedlington diciamo di vecchio tipo o meglio prima dell'avvento di un discorso selettivo su questa razza un pochino più preciso rispetto al passato i parallelismi sono in effetti abbastanza evidenti cioè ci sono tra Bedlington e Border dei buoni paralleli ripeto parliamo di cani che più si avvicinano però alla tipologia del ceppo originale per alcuni questa diciamo questa origine comune si vede soprattutto in alcuni border perché leggenda mica tanto nel senso che comunque a me è capitato anche di allevare forse anche più di un paio di cani che avevano questa caratteristica cioè alcuni border che hanno ovviamente un pelo durissimo poi lo vedremo ma lo sapete se avete dei border per le mani ad alcuni cuccioli ad alcuni cani nasce a livello di occipite a volte anche a livello del collo e anche delle spalle una sorta di quello che l'inglese chiamano top knot cioè una sorta di striscia di pelo morbido che farebbe riferimento ovviamente la genetica del pelo del beddington e del dandy dinmont ancora più forse del dandy dinmont perché al contrario del beddington che ha invece un pelo molto morbido su tutto il corpo il dandy ha una testa molto una testa coperta di pelo molto soffice ma il resto del corpo a parte le gambe è invece fornita di pelo piuttosto duro non alla stesso livello del border ma comunque un pelo definibile come duro e quindi insomma diciamo che anche questa traccia genetica in comune potrebbe essere come dire ascrivibile a un'origine comune e secondo me è una cosa interessante insomma se ci si appassiona un po' anche al mondo dei terror questi sono dati davvero inevitabilmente legati alla storia ma direi insomma in qualche modo interessanti in ogni caso tralasciando adesso le altre due razze parlando di border come insomma lo conosciamo noi come anche tutto sommato quelli rappresentati in questo disegno che sono forse ancora abbastanza riconoscibili iniziamo a parlare della razza più o meno come la conosciamo oggi come vi dicevo intorno alla metà del 1800 questi cani avevano questi border sempre nella zona e quindi nelle contee nel Roxburghshire quindi scozzese e il Northumberland che invece è diciamo la contea più a nord dell'Inghilterra questi border venivano selezionati ormai da diversi anni e utilizzati nella caccia alla volpe sportiva nelle nelle mute di in seno alle mute di Foxound più grosse della zona quindi appunto perché il border passa diciamo la grossa prova del riconoscimento come razza perché scusate la D-Round che mi disturba perché viene utilizzato ormai largamente nella zona praticamente ha preso il posto di altre razze terrier non riconosciute o per alcuni alcune razze che hanno preceduto a livello selettivo il border per esempio il Whiteley Terrier o il famoso Cockett del Terrier che si pensa sia appunto il vero e proprio progenitore del border il Cocklett è una valle appunto della zona del Roxbury in Scozia della Scozia del Sud quindi insomma in qualche modo il cane incomincia a essere selezionato in maniera molto precisa e lavora praticamente in seno alle più grosse mute di Segugi di qua e di là appunto del confine il nome non è mai stato un grosso problema da quello che ho capito nel senso che a volte si associava il nome della razza prima appunto di riconoscimento addirittura al nome della muta dei Segugi o al nome addirittura appunto come dicevo Cockett del Terrier quindi di una zona di una valle e solo nel 1890 viene adottato per tutti quei Terrier che erano riconoscibili come appartenenti a quel grado di selezione che si perpetrava come Border Terrier ovviamente il riferimento è senz'altro geografico ma in realtà il nome Border deriva appunto dai Border Foxound che erano i Foxound che venivano utilizzati che non è una razza a parte è proprio una denominazione per riconoscere quella grossa muta che lavorava che aveva grosso successo in quegli anni sia nella scossa del sud che nel margine più nord dell'Inghilterra e quindi il nome prende il nome del Terrier prende il nome dalla muta non tanto dal luogo però insomma questa è una scusate specificazione ma in realtà il nome deriva da quello cioè dalla stretta associazione appunto questa grossa muta di Segugi che apparteneva la famiglia Robson che è una delle famiglie che ha in qualche modo delineato la selezione della razza e tra l'altro insomma anche ha partecipato attivamente al tentativo di riconoscimento eccetera eccetera così come i Dodd invece nella parte diciamo nella parte inglese vediamo allora qui ci sono delle foto abbastanza direi esplicative nel senso questo credo sia una foto dei primi del novecento qui si vedono bene due cose intanto il territorio di cui parlavamo prima che è un territorio come vedete asprissimo insomma questa è una foto un po' spoccata ma qui si possono vedere anche vagamente delle formazioni rocciose con dei licheni insomma zona direi in ospitale ecco insomma non proprio altre zone bellissime della famosa campagna inglese qui vedete scusate anche bene però già un certo tipo di cane qui siamo credo sia una foto dei primissimi del novecento quindi pre riconoscimento della razza direi che è abbastanza evidente cioè ci sono delle caratteristiche senz'altro riconoscibili ma ancora come potete vedere insomma diciamo l'indirizzo preciso e selettivo che poi si determina con riconoscimento e quindi con la stesura dello standard ancora non ha avuto proprio non ha ancora cominciato quel processo importante di riconoscimento vediamo anche questa è più o meno dello stesso periodo qui però insomma si vedono anche già cose un filino più precise non siamo ancora ovviamente al border come lo possiamo conoscere noi però direi che sono già abbastanza riconoscibili non fosse altro specialmente in questa foto per una proporzione cranio muso che non è quella a cui siamo abituati questa invece è una foto credo del 30 del 1930 quindi a 10 anni da riconoscimento e quindi insomma qui vedete già non dico che possa essere un cane di giorni nostri ma in realtà sì perché comunque se lo guardate è una bella foto in bacche nero un po' ritoccata come si usava una volta ma in effetti è un cane cioè se pensate che questo è un cane che è stato allevato quasi cent'anni fa vi rendete conto che vi rendete conto che per fortuna insomma le cose sono continuate in un modo insomma notevole per quanto riguarda il presente questo è un cane degli anni 50 questo è un famoso campione dandy house di knight insomma è uno considerato a tutt'oggi uno dei prototipi della razza cioè uno di un cane che al meglio ha rappresentato e ancora oggi perché si così ispira si lascia ispirare allevando anche dalle vecchie foto dei vecchi cani è considerato davvero uno dei prototipi assoluti questa invece è una femmina degli anni 70 e ha come dire anche questa racchiude tutte le caratteristiche che hanno come dire traghettato il board dal riconoscimento fine giorni no insomma calcolate che questa è una foto ormai di una cinquantina di anni fa e quindi insomma capirete che ci sono delle analogie con i cani che vediamo oggi banalmente anche con i cani che abbiamo adesso sul divano che ci fanno capire che la direzione che è stata presa è davvero davvero positiva e rispettosa scusate ma io ho Etan che cerca di invadere il campo allora parlando di standard di razza direi che scusate guardo l'orario perché sono già le dieci un po' dilungato insomma vediamo di arrivare alla fine Etan scusa devo finire allora lo standard di razza per chi non lo sapesse lo dicevo prima insomma lo standard di razza sono delle indicazioni molto generali perché poi la tradizione degli standard inglesi è proprio quella di essere asciuttissimi quindi poche indicazioni ma molto precise nello standard di razza sono codificati tutti gli elementi che fanno del cane che viene descritto come appartenente alla razza stessa che lo standard descrive per molte razze inglesi il 1920 è stato l'anno del riconoscimento per quanto riguarda la storia del border in quel periodo erano due i club che si occupavano del border uno che era chiamato Northumber border club si opponeva fermamente al riconoscimento del border come razza vera e propria perché c'era il timore che questo riconoscimento e quindi l'accesso come razza vera e propria al mondo espositivo avrebbe in qualche modo inficiato come dire le possibilità le caratteristiche che avevano appunto caratterizzato la razza fino a quel momento quindi una grandissima abilità di come cane da lavoro questo insomma questo portò gli altri appassionati a scontrarsi con gli appartenenti a questo club che in qualche modo io dico per fortuna non lo dico io lo dicono in realtà gli inglesi per fortuna insomma l'idea di questo club che si opponeva è stata un po' tralasciata e la razza venne definitivamente riconosciuta come vi dicevo nel 1920 la paura poteva essere lecita nel senso che per molte razze già allora il pericolo era palpabile di un cambiamento così che andasse solo a modificare in qualche modo la morfologia e quindi anche il carattere del cane per sposare dei cani più eleganti che poi avessero una carriera nel mondo degli show fortunatamente come avete potuto vedere anche nelle foto che ho fatto vedere prima ma questo non è successo cioè il border terror fortunatamente ha sempre raccolto come dire un'idea basata sul rispetto per la razza soprattutto dai selezionatori seri la situazione non è così rosa in Inghilterra soprattutto ai giorni nostri da una mano una trentina d'anni in cui il border è molto molto diffuso e viene elevato anche in batteria per quelli che noi chiamiamo volgarmente cagnari la situazione in Inghilterra da questo punto di vista non è simpaticissima però c'è una schiera invece di allevatori seri che dal 1920 hanno passato di volte a volte il testimone e ci permette ancora oggi di avere un cane che è davvero 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 cambiato molto poco ma tra l'altro nelle caratteristiche fondamentali che poi vedremo nello stand nelle prossime serate ha ancora proprio un'applicazione fortissima nei cani che abbiamo la fortuna di allevare oggi e quindi come vi dicevo questa cosa fortunatamente non è successa il cane ha ovviamente valicato con il riconoscimento ha valicato il discorso del cane puramente da lavoro e ha come dire sposato diciamo altre attività principalmente quella della compagnia ma ripeto fortunatamente è stata una razza ben allevata sia in madrepatria che poi insomma un giro un po' per tutto il mondo insomma una razza che in cui rispetto in chi si in qualche modo si avvicina e nessuno si è mai sognato a parte insomma esempi un po' tristi ma che per fortuna sono stati tralasciati nessuno si è mai sognato di fare delle grosse variazioni lo standard di razza del border credo mi pare di ricordare che il buono Ronnie Irving avesse detto in un incontro che avemmo nel 2007 se non sbaglio che proprio numeri a livello di numero di parole è il più breve in assoluto di tutti gli standard in effetti è uno standard molto stringato a maglie molto larghe direi perché anche noi allevatori abbiamo insomma da un po' di darebbe anzi un po' così farebbe modo di lasciare un po' la fantasia andare in realtà sono poche indicazioni ma talmente precise che unita al fatto appunto che è una razza che va rispettata ci permette di non fare grosse stupidaggini insomma quindi nonostante la brevità le indicazioni sono molto molto precise e come scrivo qui il riferimento assoluto è sempre in qualche modo legato al lavoro del terrier non parlo di una descrizione tecnica del tipo di lavoro che dovesse fare ma un riferimento al tipo di atteggiamento che sia all'atteggiamento che anche la morfologia e la sembianza del cane deve sempre far pensare a quello la stesura dello standard in questo senso non è stata casuale perché nonostante chi si batteva per il riconoscimento della razza da parte del cane club contro quelli che invece si opponevano probabilmente questi primi grandi personaggi nella razza hanno tenuto a mente credo anche le indicazioni però di quelli che a questo riconoscimento si opponevano cioè nello standard ci danno delle indicazioni per rispettare determinate caratteristiche e quindi insomma probabilmente anche questi oppositori hanno in qualche modo contribuito alla visione che nello standard si tende a dare di questa razza ricordiamoci che lo standard non è una fotografia lo standard dà delle indicazioni che gli allevatori e appunto nello specifico anche i giudici devono seguire per fare le loro valutazioni e nonostante le interpretazioni che possono essere innegabilmente personali interpretando bene lo standard si riesce a rimanere sul livello del cane che vedete qui in questa foto cioè un cane senz'altro dall'aspetto rustico deciso che ha pochi fronzoli ma che ha delle caratteristiche molto precise che forse in qualche modo vengono anche un po' non dico nascoste ma si tende a pensare in generale che questo sia tutto sommato una razza facile che questa grande rusticità nasconda anche una semplicità di approccio in realtà non è esattamente così è proprio questa grande rusticità e questo modo quasi di dissimulare le proprie possibilità invece una caratteristica che va senz'altro ricercata è preservata allora questo è l'apertura vera e propria dello standard cioè questo ovviamente è una traduzione scusate lo standard si apre in questo modo cioè ci dice che il border terror è essenzialmente un terre da lavoro e questo come vi dicevo è ciò che accompagna in maniera più o meno sottointesa tutti i dati che poi seguiranno nello standard cioè è una sorta di faro che ci illumina neanche troppo da lontano per capire dove dobbiamo andare a parare sia parlando di allevamento che appunto come vi dicevo di giudizio se magari questo video verrà visto da qualche giudice o aspirante tale questa è una frase che ha diversi livelli di interpretazione cioè dire che un cane è essenzialmente un terre da lavoro vuol dire che tutto ciò cioè che l'essenza del cane passa attraverso questo tipo di approccio i significati secondo me sono essenzialmente due secondo me insomma direi mi sentirei di dire che sono essenzialmente due quello del temperamento e infatti poi viene anche descritto abbastanza in maniera abbastanza precisa e anche soprattutto della morfologia direi che non è da prendere la lettera nel senso che dire essenzialmente un terre da lavoro non ci dice portate questi cani e fateli lavorare costi quel che costi secondo me questa indicazione ci dice il modo in cui dobbiamo guardarlo cioè il modo in cui noi dobbiamo interpretare questa razza e cercare di allevarla nella miglior maniera possibile insomma come dicevo in un altro intervento che ho fatto il border a livello europeo quindi fuori dal Canel Club non è un cane che ha come obbligatorietà la prova di lavoro e questo potrebbe in qualche modo fare un po' pugni con questa prima frase in realtà al di là delle decisioni del Canel Club in cui non vorrei entrare insomma nel merito questa frase è proprio come dire non è un lascia passare per non so un'attività sportiva o un'attività lavorativa è proprio come dire una cosa al quale bisogna puntare cioè il fatto che sia un terror che in ogni momento esprima questa essenzialità sia che sia un cane da lavoro o sia che faccia altre cose cioè parliamo di un'idealità legata appunto a questo concetto di essenzialità rispetto a una certa funzione e quindi insomma penso sia importante sottolinearlo perché qui è facile cadere nel fatto che appunto poi questo sia un cane che è una macchina da guerra cioè in realtà non è esattamente così è una razza che però ha come e innegabilmente ha come fine ultimo questa questa frase e quindi insomma da questo punto di vista parte tutta l'interpretazione dello standard ed è assolutamente importante insomma allora le caratteristiche anche questa è una frase veramente lapidaria perché per uno che come me anche insomma prima di incominciare a studiare la razza faticavo a capire cosa volesse in realtà dire questa frase cioè nello standard mi aspettavo di trovare delle indicazioni più precise questo nelle caratteristiche ci viene detto in grado di seguire un cavallo allora poi uno si occupa studi insomma cerca di di dare un'interpretazione a una frase così quasi sibillina e arriva insomma più o meno a capire di cosa di cosa si parla allora la prima cosa da considerare è senz'altro riguardante le proporzioni del cane cioè come dicevamo il border è un cane di piccola taglia non piccolissima ma che ha le proporzioni come sappiamo di un cane diciamo da caccia insomma una proporzione di un cane che non è senz'altro più basso che lungo cioè un cane comunque che ha delle proporzioni di altezza degli arti rispetto all'altezza algarrese diciamo medie anche perché insomma classificare con esattezza le altezze dei cani a parte i centimetri non è semplice comunque basandovi sulla vostra esperienza che avete dei vostri border sulle foto che vedete potremmo insomma affermare abbastanza tranquillamente che non è senz'altro un cane a zampa corta e da questo punto di vista queste indicazioni in grado di seguire un cavallo ci apre già questo scenario quindi un cane cioè immaginate voi che ne so un cane a zampa corta che debba seguire un cavallo qui non si specifica nemmeno se lo debba seguire al galoppo al trotto non si specifica quindi il cane deve essere in grado di seguire un cavallo e quindi già le proporzioni cioè già si fa come dire uno scarto importante tra le proporzioni del cane quindi un cane che ha delle proporzioni del cane che vedete qui insomma con delle zampe importanti che gli permettano di fare quello che lo standard descrive in grado di seguire un cavallo ha anche a che fare in qualche modo sul tipo di atteggiamento che il border terrier debba avere nei confronti degli altri animali che ovviamente non siano la sua preda in questo caso i cavalli perché il cavallo è citato ma ci mettiamo anche i segugi nella caccia alla volpe i segugi hanno una parte fondamentale tanto quanto il terrier e quindi questo questo grado di seguire un cavallo in un certo senso ci parla anche di una certa propensione alla socialità da parte di questo terrier ed è assolutamente fondamentale terza cosa forse la più importante è la resistenza o come gli inglesi o come gli inglesi chiamano l'energia la stamina cioè come voi probabilmente tutti voi avrete avuto modo di provare nella vostra vita con il border lo sono cani che hanno scusato un'energia praticamente inesauribile e quindi questo riporta appunto ci riporta al fatto che un cane che debba essere in gado di seguire un cavallo abbia un'energia praticamente inesauribile cioè per lavorare proficuamente l'energia è assolutamente indispensabile e quindi insomma in questa piccola frase che a me sembra sempre davvero sibillina se la leggo in maniera superficiale nonostante sappia già quello che c'è sotto dico caspita cosa vuol dire non è semplice insomma è una piccola frase che fa riferimento a cose molto diverse e quindi insomma direi che anche in questo senso questo standard così scarno in realtà ci dà delle indicazioni scavando in profondità grazie all'aiuto di chi ci precede insomma ci dà delle ci rivela delle cose davvero importanti allora questo questo questa frase che segue l'alta nello standard ci parla invece del del carattere del cane e quindi ci dice che il board deve combinare la vivacità con la prontezza al lavoro questo insomma sono non è facile non è stato facile ma non l'ho sicuramente tradotto per primo non è facile tradurre certi termini inglesi che hanno a che fare con il carattere del cane questa prontezza al lavoro è insomma la parola inglese è gameness che viene però è una parola che viene come dire associata anche ad altri cani che hanno altri tipi di atteggiamenti o altri tipi di altri tipi di come dire di funzioni la gameness nel border terrier è la prontezza continua e costante a lavorare questo vuol dire che facciamo un esempio banalissimo se voi portate un border in un non dico in un bosco perché non siamo Heidi eccetera ma se portate come dire un border in un in un in un ambiente diciamo naturale voi vi renderete conto di questo di questo tipo di eh d'approccio cioè la prontezza a lavorare a fare qualcosa cioè a è una sorta di come dire pulsione irrefrenabile questo non vuol dire che il cane si infili direttamente in una tana senza partire dal via questo no ma vi rendete banalmente anche solo conto da quella dall'atteggiamento che ha mentre si muove il livello parliamo di un border che ha un temperamento dignitosamente tipico ecco non parliamo di un cane che ha dei problemi temperamentali parliamo sempre di idealità ecco questa pontezza al lavoro si esprime anche davvero cioè è palpabile anche come vi dicevo banalmente nel in una passeggiata all'aria aperta cioè vi rendete conto di cosa voglia dire essere per un cane di questo genere pronto a fare qualcosa e lo vedete insomma senz'altro l'avete sperimentato tutti direi che la vivacità è anche in questo caso sotto gli occhi di tutti cioè magari un esempio stupido ma quando io vedo i miei cani troppo tranquilli tendo a preoccuparmi cioè la vivacità e la presenza e anche questa prontezza tutto sommato sempre in generale rispetto a quello che li circonda è una caratteristica davvero molto 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 forte e ha le sue radici ovviamente nel tipo di lavoro che questo cane faceva quindi doveva esprimere ogni tipo di abilità mentale olfattiva fisica perché attraversare e percorrere i cunicoli dell'etaneo non è una sciocchezza quindi la vivacità direi che quello che una volta si chiamava lo spirito terrier debba essere sempre presente bisogna fare attenzione nel border la vivacità non deve essere mai però come dire associata al nervosismo il border non deve essere mai un cane eccessivamente malizioso nervoso deve essere un cane vivace che davvero per esprimere la propria energia ti dà quasi la sensazione che non guardi più tanto in faccia a nessuno in qualche sto banalizzando ovviamente ma questa è un po' la caratteristica secondo me che si rifà a questa definizione ovviamente questa grande prontezza lavoro e vivacità derivano come dicevamo prima da questi livelli di energia altissima e anche ha una dote come dire fisica rispetto all'agilità che ha non dico che non abbia pari perché ci sono dei cani che si muovono meravigliosamente bene ma come voi sapete il border ha un'agilità una resistenza che non è così facile trovare anche nelle altre razze mi viene in mente un esempio che faceva Silvia nella nostra chiacchierata in cui lei come dire vede la sua borderina che come dire svicola dalle situazioni in cui che non le piacciono con la corsa cioè questi sono cani piccoli e veloci e ha anche tanti altri cani e ve lo dice uno che ha delle ivrieri a casa è pur vero che non ha dei greyhound però vi assicuro che anche in Iran quando ci si mettono corrono forte ma qui abbiamo davvero una pallotola rivestita di pelo una pallotola di 7 kg rivestita di pelo quindi insomma a parte gli scherzi in questa vivacità in questa potenza lavoro ci sta anche ci stanno questi grandi numeri a livello proprio di agilità e di resistenza nella vivacità ci passa anche poi magari ce ne parlerà quando ci vedremo con Andrea nelle prossime serate una certa sorcevolezza con gli altri cani questo deriva senz'altro dalla selezione di cani che si dovesse muovere nella caccia insieme ai segugi e anche al cavallo ovviamente il cavaliere e quindi insomma è ovvio che un cane nervoso che si scontra troppo volentieri con gli altri cani dal punto di vista lavorativo è assolutamente indesiderabile e quindi pensate a che combinazione magica davvero mi permetto di usare questa parola perché ci sono pochi esempi simili vivacità prontezza lavoro socievolezza con gli altri animali cioè con gli altri cani scusate quindi insomma questo è insomma è ovvio che noi siamo tutti grandi estimatori grandi amatori della razza e non potremmo parlarne che bene ma queste sono davvero delle caratteristiche che non è facile trovare in tante altre razze oserei dire volendo entrare ancora un po' nel merito del lavoro del cane ne ho parlato lungamente prima questa grossa diciamo questo grosso bivio che a un certo punto il board si è trovato a percorrere l'ha portato appunto a essere uno stanatore e quindi voi potrete insomma facilmente pensare che nonostante questa prontezza al lavoro che dicevamo quindi questa capacità di mettersi di essere sempre perennemente in gioco ha però un come dire un risvolto anche di possiamo dire pensiero comunque di speculazione rispetto alla situazione che si trova a vivere se per la gran parte del suo essere questo cane è dominato appunto da questa prontezza costante sul lavoro e anche invece capare scusate capace di discriminare nelle situazioni e quindi questo vi dà ancora una volta il quadro di questa complessità che per me è veramente una bomba a livello temperamentale nel senso che ha delle caratteristiche talmente uniche che che lo rendono quello che è che poi questa questa cosa in realtà ha anche un risvolto rispetto alla grande dottilità della razza perché tutte queste caratteristiche insieme come dire creano anche nel cane una capacità di affrontare situazioni diverse in maniera scusate in maniera sempre molto proficua e positiva tutto sommato scusate ecco io sono in effetti sono anche un po' in ritardo sono arrivato insomma alla fine di questa prima parte insomma adesso scusate cerco di uscire dalla schermata per vedere di di parlare con voi se avete delle domande insomma io spero di essere riuscito a così a coprire un po' questi primi questi primi cenni così molto molto generali insomma ripeto ci sarebbero tante altre considerazioni da fare anche a livello storico insomma ci sono delle storie interessanti da raccontare ma è ovvio che non è facile così concentrare in un'ora o poco più tante notizie insomma mi auguro che comunque sia 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 riuscito a far capire o perlomeno a spiegare non tanto a far capire quello che è quella che è la pro quello che è insomma la maniera in cui dovremmo dovremmo perché poi insomma lo faremo insieme al prossimo appuntamento come approcciarci appunto a questo a questa razza ecco e quindi spero sia sia stato tutto chiaro e come vi dicevo insomma se avete delle domande io sono qua vi ricordo che sabato abbiamo la nostra diretta con un interlocutore fortunatamente perché parlare tanto come sentite ho già giù la voce ma ha detto questo abbiamo avremo con noi Vanessa Dallavalle che è una giovane allevatrice che si occupa da tanti anni di border collie tra l'altro si occupa dei border collie con dal punto di vista dello ship dog quindi insomma un'attività molto molto legata alla selezione del cane stesso al tipo di selezione e poi anche insomma ha già accumulato una buona esperienza anche con il border terrier e quindi insomma speriamo che di fare una bella chiacchierata anche con lei io spero veramente di non avervi annoiati e saluto ancora una volta chi invece ci vedrà indifferita e grazie Emma grazie grazie a voi per avere così per avere resistito più o meno a lunga più o meno a lungo e sì Emma tra l'altro insomma di immagini d'epoca ce ne sarebbero state anche altre però ho dovuto un po' ho dovuto insomma un po' riassumere andando un po' su delle decadi diverse ma comunque insomma penso che più o meno sia stato più o meno così vi ringrazio tutti davvero insomma io tutto sommato mi diverto insomma a parte che serve a me sempre per ripassare i fondamentali insomma mi metto volentieri insomma anche a a disposizione e insomma spero davvero di riuscire perlomeno a trasmettere questa grande passione che ci ha comune in realtà perché devo dire che il nostro è un gruppo di veri appassionati insomma quelli che si prendono il disturbo di mettere dei post banalmente anche di un cane sul divano insomma siamo tutti devo dire veramente molto appassionati e quindi e quindi vi ringrazio e vi auguro buona serata grazie davvero ah sì scusate si può rivedere la replica sì sì certo poi io insomma ho già salvato le altre dirette sotto sapete che ci sono gli argomenti sulle pagine di facebook sono tutti poi salvati sotto un unico argomento ma banalmente anche come dire ripercorrendo lo storico della pagina li andate li andate a ritrovare bene sono contento che insomma che vi che vi abbia fatto facere sono un po' stanco vi abbia fatto piacere essere essere qua stasera e un bacio a tutti i vostri border e ci vediamo sabato con Vanessa e poi ci vediamo giovedì poi ci sarà Isabel poi vedete ancora me perché non giusto per stufarmi fino in fondo poi abbiamo Andrea e un'altra cosa importante invito tutti quelli che a vario titolo hanno voglia di parlare della loro esperienza per esempio ho visto anche prima Cristina che è senz'altro una persona che ha lunga esperienza a livello cinofilo che si è appena affacciata al border terra insomma Cristina non ti voglio fare un invito ufficiale ma se hai voglia di venire a a dare magari anche tu qualche indicazione sulla tua esperienza ben venga casomai poi ci ci sentiamo ecco chiunque abbia voglia di insomma ci sono anche altri allevatori io insomma non voglio costringere nessuno ma visto che ormai è una razza che si sta non dico diffondendo ma insomma ha qualche numero in più chiunque volesse dire qualcosa che risultasse poi interessante è davvero il benvenuto ci possiamo sentire e e e vedere di condividere insomma questa grande passione con tutti e quindi grazie grazie davvero scusate la telecamerina un po' antiquata sembro davvero David Copp a finire il suo studio ma magari e e comunque insomma grazie davvero per essere stati con noi vi saluto e ci vediamo ci vediamo sabato ciao buona serata buona serata buona serata Grazie a tutti.